E non c'è niente da fare, le cameriere di oggi purtroppo non sono più scattere come quelle di una O Quale papà? Quale papà? Quale papà? Il mio padre, il signor da fele Ma sei una gretina? Ma a chi pensi? Forza pulisci! Scusate Michele, sono mortificata Vai sopra, vai! Che c'è la partita! C'è la partita! Sopra io! C'è la partita! C'è la partita! Che cos'è questo rumore? Ma c'è un'interferenza? E' finita! Questo dovrebbe essere papà! Buono! Brava! Pronto? Dottor Croce Michele, porta Raffaele a vedere le stante di sopra, non le amministre Ma non le vuole vedere Perché non le vuoi vedere, Raffaele? Io sono partita per una vacana, auguri! Grazie, dottore Raffaele, vedi a ti facciare il caffè! Signora Luisa, lo faccio io! Bene! Oh no, che disgrazia! Michele! Michele! Arrivo, calma, arrivo! Signora, salve siete, non c'è nessun piacere, chiamato di maglia Sì, per un funerario come niente di qualità, dica! Sta bene! Per solo i 50 euro vi farò un servizio eccezionale! Salve, condiglianze! Grazie! A tu masch! Sei scordato da cucinio che vuole un surca sotto! Alla piccara! Toia, già vale! Ma neanche salutare Raffaele per l'ultima volta! Eh, ma lo conoscevi signora Raffaele! Signora, se volete lo possiamo riaprire! Alla piccara di ciò fisico! Ti raccomandiamo signore, l'anima fedele del nostro fratello Raffaele! Perché hai lasciato questo mondo viva in te! Mammi tutto, ecchio! Michele, com'erata! Raffaele! E un altro di noi se n'è andato! Eh, sono sempre i peggiori quelli che stanno avanti! Io e Luisa e Michele ci siamo innamorati! Io sono pazzo!